Sky ti porta la più sensazionale offerta di sempre, internet super veloce, chiamate illimitate di fastword insieme alla grande Sky TV, più lo spettacolare Sky Sport, con tutti i gran premi di Formula 1 live in esclusiva, i match decisivi del campionato di Serie A, un'incredibile offerta a soli 29 euro al mese, internet super veloce, chiamate illimitate verso rete fissa, la grande Sky TV più Sky Sport, affrettati l'offerta termina il 5 maggio, chiamaci il 02 80 80. Cosa fa Federica Belloni?